Alla nostra destra del palco, alla vostra sinistra, come mi spiega un bello per le cose, vi faccio capire. A quei due signori, uno con gli occhiali e l'altro con la maglia si dice, non mi ricordo mai i cognomi però dopo mi sputate in faccia perché lo so che lo fate. Antonio lo conosce tutti, ma Antonio Petrino, giusto? E a fianco? Petrino? No, è uscita da L, è un difetto del microfono, veramente. La signora non puoi creare mai, ma guarda sempre che la faccia dice, voglio tutti se le c'hai sulle strunzate stasera. Non è vero signora? Antonio Petrino. Oh là ci guarda il posto. Antonio Petrino ed Angelo Dalbarito, facciamo un applauso a tutti e due, ma facciamolo, era forte, vero? Io di solito le dico ad Angelo, che è il nostro empresario, ma stasera anche Antonio che c'è, c'è di là di qua, gli dediciamo questa canzoncina che è... Anche al comitato, ma giusto, dove va il comitato? Dove vogliono? E venite qua, dite qualcosa. Pazzo, vedi che io devo trovare, che sei io, vengo a Puma. No, la signora come si chiama? La signora, lei, come si chiama? Anna Lisa. Pazzo, poco tempo fa, è stato pure il posto, non massimo. E' infatti un bel regalo, no? No, mi scendono il pulsante. Dopo dedicamo una canzone anche al comitato. Da qui rappresentata la signora Anna Lisa, di cui facciamo un grande applauso a tutti quanti, perché... Che giustamente, io la dedico sempre a loro, però questa qua, non la posso dedicare a voi, spero che voi non prendete, vorrei voi, questo fatto. Che Angela non prenderà quella... No. Vai, va, 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 la cica mi bolla nel suo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.